Siamo portando con l'offenza dell'Osservatorio Molisano della Liberità, l'Avvocato Giacomo di Ritis e Mario Mandrò, tutti appartenenti all'Osservatorio, per parlare del GAS, questo gruppo d'acquisto solidale che l'associazione ha attivato e che è stato presentato l'11 giugno scorso. La prima domanda ovvia è questa, cercare di capire che cos'è un GAS. Intanto grazie al Bene Comune per l'invito che ci ha rivolto. Come OML noi abbiamo fatto una scelta di fondo, cioè quella di avere la persona al centro. Dunque prima di tutto dobbiamo e devo in modo particolare rendere omaggio a Francesco perché l'idea del gruppo di acquisto solidale intercute il fatto che noi mettiamo la persona al centro. Noi abbiamo preso un impegno con questa persona e abbiamo portato avanti la sua materia. Colgo l'occasione per ringraziare anche Eliseo Trondetta e sul suggerimento dell'avvocato di Ritis, ci siamo accorti che uno dei punti deboli del gruppo di acquisto solidale è proprio quello di andare a prendere la merce e poi distribuirla. Abbiamo fatto un piccolo sondaggio, abbiamo visto che tutto questo soprattutto da noi non regge. Allora abbiamo cercato di ribaltare la situazione e di appoggiarci direttamente a dei produttori locali, la bottega del contadino. A Fidenza e poi a Reggio Emilia è nato il primo gruppo appunto a Fidenza. Poi si è diffusa in Italia questa operazione bilanci di giustizia che chiede alle famiglie di verificare nel bilancio familiare quanto può incidere poi questo cambio e l'utilizzo del gas, è inciso sulla qualità della vita anche. Nasce la rete dei gruppi d'acquisto che avevano appunto lo scopo di collegare tra di loro questi diversi gruppi per scambiare ovviamente informazioni sui prodotti, non è il passaparola che rimane in una comunità, la cosa fondamentale. Quindi sui prodotti, sui produttori per diffondere appunto l'idea dei gruppi d'acquisto. Quindi diciamo che avete preso, grazie a Francesco, come hai deciso di prima, l'idea di attivarlo e di partire. Adattandolo, modulandolo. In effetti il gas per chi non sa cos'è. Sicuramente la cosa più importante è che i prodotti vengano acquistati in loco, perché l'obiettivo è quello di favorire i piccoli agricoltori. Tutti i produttori che, come dire, afferiscono e conferiscono i prodotti alla bottega del contadino sono delle strutture piccole. Ritorniamo al concetto di prima, la persona al centro per noi. Allora, se tu prendi un attimo la tesserina, vedrai che è scritto. Ad oggi circa 9 milioni e 600 mila persone sono clienti dei gas. Però attenzione, bisogna vedere i contesti dove questi sono localizzati. Un territorio così frammentato come il nostro è impensabile. Io ti faccio un esempio. A Termoli, dove ci sono persone molto attive, il gas non riesce ad avere più di 10 clienti che ruotano continuamente. Se tu consideri che in una città come Bologna ci sono appena 100 nuclei familiari che fanno parte di uno dei più grossi gas d'Italia, capisci bene che c'è qualche cosa che non va proprio nella organizzazione. Ma forse perché noi lo immaginiamo un attimo come una scelta elitaria, tra virgolette, cioè intellettuale e lo viviamo forse qui da noi. 10 milioni di persone che vanno a comprare? No, parlo qui da noi in Molise, forse perché in effetti il bio aveva un prezzo sul mercato altissimo, oggettivamente ce l'aveva alto e il supermercato invece in quel periodo ha coperto con una qualità non verificata, non verificabile se non tramite la pubblicità che sappiamo bene come ci allebbia la coscienza e la capacità, con dei prezzi sicuramente competitivi. Ma in una realtà difficile e di crisi come quella attuale il sospetto, l'idea che fosse qualcosa che non solo costava di più nel nostro territorio rispetto a quello che si trovava nei supermercati, ma che poi è davvero bio, c'è stata tutta questa bolla, per cui bolla fino a un certo punto perché in effetti è difficile trovare dei prodotti veramente bio, sarebbe complicatissimo, ma all'opinione pubblica non arrivano queste sfumature, arriva soltanto il fatto che si chiama bio chissà quanto costa e poi si scopre pure che quell'olio che era definito bio non lo era al 100% e quant'altro. Quindi diciamo che paghiamo uno scarto perché al nord, a mio avviso, proprio nel solidale, il discorso era partiamo dalla solidarietà fra chi compra per arrivare anche a chi produce. Mettiamo insieme, riusciamo ad avere dei prezzi competitivi, una qualità migliore, sappiamo cosa prendiamo, poi su c'è una logica molto più attenta a questo, noi siamo un pochino più rilassati, però la solidarietà partiva dall'idea anche del risparmio, per cui ci si metteva insieme per riuscire ad avere dei prodotti buoni con un prezzo più basso e quindi questo reggeva il gas. Qui da noi questo non ha funzionato, era una scelta fatta più per motivo ideologico di un gruppo di persone che quindi reggevano come dicevi tu fino a un certo punto, poi le prime difficoltà. Noi avessimo riproposto quel sistema, che però è il vero gas, nessuno lo nega. L'obiettivo per noi non è certo il risparmio del 10%, perché parliamoci chiaro, se io tiro fuori 500 euro al mese per alimentarmi, i 50 euro io posso andare tranquillamente a recuperarli sotto un'altra forma. Il vero obiettivo è quello di tutelare i piccoli agricoltori che sono già strozzati, questo è il punto. Noi attualmente abbiamo 30 nuclei familiari che vanno a comprare. Facciamo finta che ogni nucleo familiare spenda ogni mese 100 euro, vuol dire che noi abbiamo assicurato ad un negozio gestito da una sola persona quanto ogni mese? 3.000 euro e per 12 mesi. Questo diventa importante perché noi diamo un supporto non soltanto morale, perché facciamo sentire la vicinanza a quelle persone. Attenzione, tutte le aziende che fanno parte del nostro gruppo, sono certificate, hanno controlli, non li avvertono quando vanno a fare i controlli, non sono bio però, attenzione, non sono certificate bio. La cartina di tornasole sta direttamente nell'alimento, noi a breve cominceremo per esempio a portare i nuclei familiari nelle aziende. Quante aziende sono consultate? Attualmente ne abbiamo tre. La piana del riccio, loro producono il fresco e la frutta, fresco e frutta. Noi troveremo solo e esclusivamente sempre prodotti di stagione. Tra l'altro adesso cominceranno sempre come piana del riccio, anzi hanno già cominciato, hanno inaugurato una settimana fa a fare anche conserve. Dunque l'apporto di persone che vanno a comprare significa già aver messo in piedi un altro circuito virtuoso perché poi in quell'azienda andranno altre persone a lavorare. Ti do un dato. Dopo la Calabria, la seconda regione che sfrutta di più la manovalanza in agricoltura è in Molise. In agricoltura oggi, anche nel basso Molise, ci sono due fenomeni molto strano. Da un lato arrivano persone, guarda caso dalla Campania, che acquistano anche centinaia di ettari, sull'altro fronte arrivano persone dalla Puglia. Mentre prima venivano a prendere soltanto il prodotto perché erano i locali che prendevano e vendevano, adesso hanno cambiato sistema perché quelli che stanno in logo non ce la fanno più. Allora che cosa succede? Che le organizzazioni malavitose, su un fronte e sull'altro, stringono accordi e finiscono per devastare quel poco che è rimasto di produttivo del basso Molise. Naturalmente noi non abbiamo l'obiettivo di risolvere i problemi del mondo, però noi li scriviamo, combattiamo le agromafie e noi non è che ci possiamo sostituire all'autorità inquirente o giudicante. Però nel nostro piccolo noi possiamo mandare un messaggio fuori. Oggi siamo 30, noi entro a fine anno abbiamo preso l'impegno di arrivare a 100 soci, abbiamo mani nude. Le altre due aziende sono la fattoria rosa, Bonefro, Bonefro. L'altro invece è un pastificio, un piccolo pastificio artigianale, filiere Molise. Materia prima solo ed esclusivamente Molisana. Solo ed esclusivamente. E loro dove sono? Loro stanno ugualmente a Bonefro. A breve avremo anche le carni del tratturo. E mi dicevi invece che vi siete organizzati in questa maniera, quindi l'avvocato piegava in maniera molto esaustiva e chiara come è organizzato a livello, quindi avete dovuto cambiare il vostro statuto. Sentivo come... Sì, l'abbiamo dovuto un pochino ritoccare perché nel nostro stato originario in effetti hanno visto delle gravi limitazioni per quanto riguarda l'adesione all'associazione. Il fatto per esempio che non si dovesse essere iscritti a partiti politici ovviamente è una grave limitazione per coloro i quali intendono poi associarsi, ma solo ai fini dei gruppi di acquisto solidari. Perché? Perché ci siamo resi conto che in effetti era necessario far entrare nell'associazione, non a pieno titolo poi come spiegherò di qui a poco, anche coloro i quali vendono, cioè i venditori, i produttori, perché è bene che tutti quanti, sia produttori che acquirenti, siano soci e facciano parte dell'associazione. Cioè devono vivere momenti d'insieme, che poi sono momenti culturali, momenti di crescita, momenti d'incontro e quindi abbiamo dovuto modificare lo statuto. Perché? Perché nei produttori ovviamente c'è gente che milita nelle formazioni politiche, i movimenti, eccetera. E quindi abbiamo ritenuto giusto modificare lo statuto in maniera da consentire loro anche di far parte di OEB. Soci sostenitori con dei limiti, qual è per esempio il fatto di non poter rivestire cariche all'interno dell'associazione, ma tutti quanti gli altri diritti di partecipare all'assemblea, di votare il bilancio. Quindi diciamo di svolgere quella che la normale vita associativa, questa sì ce l'hanno. Io volevo soltanto precisare una cosa a proposito della denominazione di gruppo di acquisto solidale. La solidarietà, come sappiamo, in effetti è un vincolo che unisce due o più persone o sotto il profilo passivo, nel senso che due o più persone sono tenute a dare o fare qualcosa, oppure sotto il profilo attivo, nel senso che due o più persone hanno il diritto di pretendere qualche prestazione, di dare oppure di fare. La dizione gruppo di acquisto solidale, nel nostro caso, io per la verità non la ritengo troppo appropriata. Appropriata è perché si connotava come solidarietà all'interno del gruppo di acquisto, non tanto all'interno del gruppo dei produttori. E questo perché? Che più persone si voglia perché scontassero un prezzo adeguato oppure inferiore a quello di mercato, ma si voglia soprattutto per consentire a persone che poi non avevano la possibilità di accedere a questa modalità di acquisto, di ricevere il prodotto a casa. Non per nulla c'erano persone che si prestavano appunto alle casse in azienda per poi prelevare la merce e consegnarla a due vicini. Questa caratteristica è venuta meno nel nostro caso. Perché? Perché ogni socio dotato appunto di quella tesserina che è valida fino al 31-12, 2012, perché abbiamo cercato di curare anche questo aspetto, cioè non abbiamo dato la tessera che possa essere valida in ogni tempo, no, perché dobbiamo anche controllare se effettivamente poi ci sarà l'ulteriore adesione alla nostra associazione perché ogni anno ovviamente si aprono le iscrizioni e quindi bisognerà riconfermare la propria partecipazione. Allora stavo dicendo, gli acquirenti, i soci di OML vanno ad acquistare liberamente, non c'è qualcuno incaricato che debba provvedere alla bisogna e poi distribuire il prodotto. E questo perché? Perché ci siamo resi conto che era il punto debole e che purtroppo, purtroppo hanno avuto un esito infelice. Sì, ma in effetti leggevo che con la finanziaria del 2008 i gas hanno avuto una definizione, sono state definite associazioni non lucrative e quindi in questa maniera ci si poteva muovere quindi equivale a soggetti non commerciali per cui si potevano avere tutti gli sgravi, gli aiuti per poter mettere su un'attività che fosse sì economica ma che fosse uno profit, tra virgolette, che quindi permettesse, e quindi diciamo che era anche un'aspirazione a farli vivere perché potevano creare lavoro, cioè l'idea di dire i soliti due giovani, perché ci muoviamo sempre su questa loggia, i due giovani che grazie a questo fatto, quindi con questo gravio rispetto ai contributi da pagare, potevano però avviare un'attività che gli desse lavoro occupandosi della gestione del gas. Quello che in effetti va a corrispondere alla vostra tessera diventava, tra virgolette, in un gas così formulato, la possibilità per i due giovani di avviare questa attività, quindi di andare dal produttore, portare i prodotti, organizzare le buste e consegnare, distribuirlo quant'altro, ma in effetti avete fatto una scelta su l'attività già esistente, quindi su dare una mano e rendere più fattivo e di lunga durata garantendo una certidità. Abbiamo voluto privilegiare la solidarietà nei confronti del produttore, non tanto all'interno del gruppo di acquisto. Dunque, il risparmio del 10% a noi non ci cambia la vita, ma se io tengo gli agricoltori sul territorio, io ho tutelato il territorio, perché se quello non ce la fa più e se ne va. Sì, ma è stato chiaro, in effetti il discorso di solidarietà viene ribadito partendo dal discorso poi delle agromafie di cui parlate, quindi è chiaro che un'associazione come la vostra che mette al centro la tutela della rigarità sul territorio va a fare un discorso che è leggermente, ha un'ottica leggermente diversa da quella che parte da un'associazione che si occupa dei consumatori o che si occupa appunto di una comunità e quindi garantisce abitare attenzione, attenzione, perché noi tutto vogliamo essere tranne che consumatori, noi non abbiamo doveri, noi abbiamo solo diritti, noi viviamo nello stato di diritto, non nello stato di diritto. No, ma io dico di più, noi vorremmo essere suggeritori e promotori di iniziative, cioè se ci rendiamo conto, qui viene il discorso elitario in cui parlavi tu prima, è chiaro che queste sono scelte che vengono fatte da determinate persone, perché poi io ritengo che sia molto difficile in effetti andare a cambiare quella che è la mentalità o quelle che sono le abitudini soprattutto delle persone, fare la spesa sotto casa, cercare di ottenere beni il cui prezzo sia inferiore rispetto a quello degli altri, quindi a quel punto diciamo che sono scelte o condizionate da quelle che sono le disponibilità economiche o condizionate da quella che è la cultura, diciamo, l'esperienza di ognuno di noi, invece noi vorremmo addirittura influire fino anche sulla produzione, cioè cercare di privilegiare determinati prodotti. Questo nel gas c'è storicamente. Quindi torniamo al concetto secondo cui ci siamo visti nelle condizioni di dover adeguare un attimino i concetti che caratterizzano generalmente il gruppo d'acquisto di l'Italia della nostra realtà. Altre esperienze? L nazionale? No, non c'è un L nazionale, L nasce in Molise, è fatto da Molisani. Diciamo questo, allora una domanda adesso ci sta, il gas è il discorso tra virgolette ed è etico. Gli stili di vita rispondono poi, diciamo, anche a una presa di coscienza della realtà e si cambiano a seconda di questa presa di coscienza della realtà. Per cui per voi c'è anche questo? Cioè, oltre al discorso proprio legato alle mafie, alle agromafie, quindi un discorso che potrebbe restare anche su un ambito che non va a toccare poi anche l'attenzione ad altre cose, perché io posso essere contro e attento che le mafie non entrino nel mio territorio e penso di essere nel rispetto della massima legalità quando dissugo il territorio perché non faccio più coltivare ma faccio piantare oli vegetali per le macchine oppure faccio mettere il fotovoltaico non in maniera seria e sono nella legalità perché la nostra regione ha dato le autorizzazioni quindi è tutto ufficialmente, apparentemente molto legale. Vogliamo invece cambiare anche questo? Cioè che cosa c'è dietro per l'associazione? Noi cerchiamo di far capire qual è il concetto di legalità, di diritto e di giustizia. Legalità rispetto di regole. Domanda che si pone lo AML, ma le regole chi le fa? Perché se le regole le fa Mario e tutti quanti dobbiamo osservarle le regole che ha fatto Mario, noi subiamo le regole di Mario. Diritto? Diritto si legge sul Mancipium. Tutela ciò che è mio, ciò che è privato, cioè ciò che è tolto ad altri. Il vero obiettivo è la giustizia e la giustizia è un fatto soggettivo. Per me è giusto fare il gas, per me è giusto dare una mano agli agricoltori. Noi sappiamo di essere perdenti, noi non siamo divincenti, lo sappiamo, però la nostra forza è che ne siamo coscienti. Diciamo che dietro c'è questa convinzione che è il bene comune, ma soprattutto il primario, quindi l'alimentazione, ritorniamo a questo punto. Allora se io mi svendo il territorio con l'eolico e i topi non ce li ho più, perché scappano pure i topi, ho campi elettromagnetici, tu sai che qui ci sono persone che si sono impiccate sotto le pale eoliche. Allora noi ci dobbiamo chiedere di questa terra che vogliamo fare. Queste sono cose che gridano a vendetta agli occhi di Dio e degli uomini, perché noi non abbiamo bisogno di tutto quanto questa energia. Io non voglio l'uniformità, io voglio la diversità. Nel nostro gruppo ci deve stare solo ed esclusivamente la diversità, perché quella è la ricchezza, il sale della vita. Se io devo dare un senso a quello che faccio, alla mia vita, io non voglio più essere gestito, capisci? Allora tutto quanto quello che vado a fare deve essere prima improntato sull'esempio, il mio, perché io presiedo, dunque nessuno sarà disposto a seguirmi se io non do l'esempio. Poi naturalmente la condivisione, per carità, noi ci vediamo ogni settimana, ognuno dice la sua, eccetera, ma l'azione propulsiva e propositiva è fatta da un manipolo di persone, come è giusto che sia. Chiediamo a Mario qualcosa. A Mario, rispetto al lato commerciale, come vi siete organizzati? Quindi c'è questa unione di produttori, di questi tre di cui abbiamo parlato per il momento, ma che dovrà essere incrementato con... Infatti sulla base dell'ottima esperienza vissuta, con l'avvio del gas riferito al settore agroalimentare, abbiamo ritenuto opportuno estendere il progetto, per cui estendiamo il progetto e definiamo il progetto... Ti è in pancosa. Cosa intendiamo per il negozio di tanti? Ti è ancora ti è in pancosa. Intendiamo quell'attività commerciale che produce o rivende prodotti propri e o servizi. Ciò che riusciamo a proporre agli attività, proviamo a immaginare l'allargamento a settori merceologici che spaziano dall'arredamento, quelli che sono i settori merceologici, le categorie merceologiche di tipo tradizionale, proprio per far sì che si possa sviluppare in maniera più ampia il progetto. Da un lato quindi ci sono le attività commerciali a cui noi proponiamo la possibilità di fornire informazione, formazione e assistenza al diritto, capisaldi che fanno parte del nostro statuto. Inoltre possiamo dare la possibilità alle attività commerciali di essere supportate nelle attività di promozione, ma cosa ancora più importante, e ci piace in questo aver stravolto un po' il concetto del marketing tradizionale, cosa più importante è offrire su un piatto della bilancia un target di mercato, che è rappresentato sostanzialmente dalle 100 famiglie pilota a cui tendiamo inizialmente. Oggi sono inserite 30 famiglie nel circuito che io definisco vestuoso e noi tendiamo da qui a qualche mese con la puntualizzata Nicola a raggiungere un numero di 100 famiglie. Lì dove la legalità viene proprio mostrata, evidenziata e dal passaggio della trasparenza rispetto allo scontrino fiscale e al fatto che l'agricoltore o il commerciante si inserirà in questo progetto, farà uno sconto grazie alla tessera e uno sconto ulteriore del 5% che andrà all'associazione, ma fornirà comunque questo sconto su uno scontrino con un prezzo realistico, cioè sul vero prezzo per cui lo scontrino porterà il vero prezzo e su quello sarà fatto lo sconto. Tutto questo testimonierà quindi che le tasse sono pagate, sono pagate sul prezzo totale. Quindi andiamo ad affermare uno dei principi… E chiaramente sul piatto tu offri a questa persona che accetta di dare il 10% di sconto al 5% di sconto all'associazione perché gli stai portando un target di persone che garantisce proprio perché all'interno dell'associazione di servirci di questo sconto. Cosa che in condizioni ordinarie è ciò che è stato fatto della storia del mercato è una funzione che svolge fondamentalmente la cosiddetta pubblicità di carattere informativo o di carattere creativo o disinformativo. Quindi voglio dire, quindi stravolgiamo un attimino il controllo. La cosa importante che tengo a precisare è che, attenendo sempre al concetto di circuito virtuoso, in questa maniera, avendo studiato il meccanismo in funzione della necessità di far aderire alla nostra associazione sia le attività commerciali che naturalmente le famiglie, in questo modo andiamo a chiudere il cerchio perché in questa maniera è come se costringessimo gli uni soggetti, gli altri soggetti necessariamente la rispettano e essere nel rispetto della regola di carità. Dunque diventa tutto indolore, non so se l'abbiamo detto prima però questo è fondamentale, la royalty che viene versata serve all'associazione per reinvestire nel sociale, noi non possiamo dividere nulla naturalmente. Ho una precisazione per quanto riguarda la tecnica del pagamento e i parametri che vengono adottati, l'ortaggio o qualsiasi altro bene in vendita è ad 1 euro al chilo, prezzo pieno per il pubblico. No? Facciamo un esempio. Facciamo un esempio. Per capire... No, no, no. Non si parla delle mozzarelle, 10 euro al chilo, non è importante. Tutto mille. Allora, chi va ad acquistare munito di quella tessera e quindi socio di OMR ha lo sconto del 10%, quindi pagherà non 10 euro al chilo ma 9 euro al chilo. Lo scontrino viene fatto per 9 euro. Ok? Attenzione, attenzione, no perché prima... Prima no, infatti. Eh, 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 ma io ho capito subito, appunto, appunto, ma non è giusto, non è giusto proprio. Se io opero uno sconto io devo pagare le tasse su 9 euro, io venditore. Quindi il prezzo pieno è 10 euro al pubblico, viene il socio OMR, paga 9. Perché? Perché ha ottenuto in virtù di quel contratto che abbiamo fatto il 10% di sconto. Sconto, certo. Nel momento in cui il socio OMR mi porta lo scontrino a fine mese a me associazione, io associazione mi vedrò riconosciuto su quello scontrino un ulteriore 5%, ma non su 9 euro, che sarebbero 4,5, ma su 10 euro. Perché? Perché il contratto è stato fatto in maniera da ottenere uno sconto pieno tra acquirente e associazione del 15%, di cui 10% al cliente e 5% all'associazione. Per cui il venditore su un prezzo pieno di 10 euro venderà al cliente socio 9 euro. Quindi con uno sconto secco del 10%. Poi sullo scontrino che mi porta, che è di 9 euro, ma io so che è già ottenuto il 10% di sconto, il 5% saranno 0,50 centesimi che andranno all'associazione. Quindi in effetti il venditore su 10 euro praticherà un prezzo che è realmente di 8,50. Cioè il 15% andrà il 10% all'acquirente e il 5% all'associazione. Il 50% varrà come contributo da versare all'associazione e noi rilasceremo da parte del venditore. Eh sì, non possiamo. Che è socio. Dobbiamo essere molto corretti su tutti i due fronti. Perché noi prendiamo l'impegno di venire da te. Ma tu devi essere altrettanto corretto. E qui c'è anche una questione educativa. Eh? Dunque, l'ethos e i mores, l'etica e la morale. Con che cosa si fa questo? Dando l'esempio. Però l'obiettivo è quello di fruire... Avremo tempo per rivederci. L'ultima cosa, naturalmente, credo che il giornale è molto seguito, la TV anche. Dunque, invitiamo i molisani a darci una mano per aggiungere i 100 iscritti. Perché poi ci sono anche altre novità. Ma adesso rimaniamo sul pezzo per quanto riguarda il gruppo da queste sottoline. Sì, ma poi ci ripeteremo per questa nuova iniziativa delle donne che... Molto interessante. Molto, molto interessante. OEM le donne già esiste. OEM le donne già esiste. Sì, sì. È già andato di fatto. Il mio passo sarà questo sportello per le donne che hanno subito violenza. Per le donne. Non è la vostra sede? Così lo diciamo. Siamo a terzo spazio. Un argomento dolente. È stata brava lei. È stata bravissima. È stata brava lei. È stata brava lei. OEM?